In una calda estranea, sì, del 2019, mi ricordo, Hitman 1 e 2 Ci siamo divertiti come Porsche, è un giocone Fa super ridere in stream perché poi faccio una marea di cazzate Hitman 3, la drammatica conclusione della trilogia del mondo degli assassini Cazzo, è la fine! È la fine di Hitman Cadro, io sono tiltato Vabbè, vabbè Vai Non mi ricorda niente se è piaci È un regappino, eh È un regappino del 1 e 2 Vabbè Anche i piani migliori possono fallire Pensavo fosse stata Hitman in quarantena con i capelli È che l'ho Non mi ricorda niente se è piaciuto Non mi ricorda niente se è piaciuto Ma c'è bogeo Non mi ricorda niente se è piaciuto Ma c'è bogeo Non mi ricorda niente se è piaciuto Ma c'è bogeo Non mi ricorda niente se è piaciuto Non mi ricorda niente se è piaciuto Non mi ricorda niente se è piaciuto Mamma mia fratella che impiccio Oh cazzo What the hell? Base Alexa Carlisle's helicopter just took off Confirm target locations, over Colorado, what's the status? Right Allora, abbiamo una situazione. Carlisle ha lasciato il bambino, e credo che vedo il motivo. Il Constante ha escapato. Il ha persuaduto uno dei Sailorsi a mettere a lui liberi. E da qui, ha avuto scegliere il controllo di Providenza e i risultati. Posso solo pensare che Carlisle è riuscita per contenere i dimenti. Se si si perdita di nuovo... Siamo attraverso la sua, sicuramente non. Inoltre, il plan resta lo stesso. Il vostro destino è il Scepter, il bambino del mondo più grande, dove i partenari si restano sotto, a causa del loro host, Sheikh Omar Al-Ghazali. Marcus Stuyvesant è la prima generazione di soldi. La sua famiglia ha fatto il suo fortuna in reale e in bancazione, e erano, a un punto, i cittadini dei cittadini in New York. Carl Ingram è un potente kingmaker di Washington, che si è diventato riuscita per vendere i dimenti durante l'amera civile americana, e poi, inoltre, ha stabilito un empire di spazio in allo stesso tempo... Padiano! Tu mangi c'info, mi fa male la testa Dobbiamo ammazzare Carl e Marcus Questa è la missione Oh si Sorrenti grazie di 3, Manu grazie di 6, Nico grazie di 10, Kiri grazie di 2 Enghi grazie del Prime, Zannone grazie di 5, Mattei grazie di 100, Tobi grazie di 3, Guarti grazie di 2, Manu grazie di 25 Oh si Dubai ancora una volta Oh Sma grazie dei 5 regalati Ok Allora Allora Una meccanica stupenda di questo gioco è che questo gioco in realtà non ha un modo preciso e prestabilito per eseguire le missioni Cioè Io Posso fare le missioni come meglio credo ok Posso travestirmi da fattorino, da cameriere, da chiunque E vado avanti nel gioco così capito facendo le missioni a modo mio E ogni missione la vuoi rigiocare a tipo non lo so Più o meno una cosa come 6, 7 modi per uccidere magari bersagli in un modo specifico e preciso Bigsboy grazie del Prime, bello Zannone fa un passo, Hitman 3, missione fallita Allora Graficamente insane su PS5 Ragazzi Cioè tocca salire qua sopra ma stai a dire Ma non credo No non credo Eeeh signo Lo cazzo devo andare Ah ok Mamma mia ma te sei pazzo Ma tu sei folle Mi sembrava molto più stabile la salita che la discesa No 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 Fermo 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 ok Allora Come se ci si alzava Allora ok Equipaggio alla fotocamera Do sta la fotocamera Ecco Che c'è mercavo Dammi il cavo 038 Già questo qua si chiama Non tutti i piani finiscono come si deve Infatti sta missione sarà bella trollata Tu dice zio Allora Salve Posso Posso fregare i vestiti No Beh Pure io faccio così al giorno Al giorno pure io so così Allora Ciao 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 C'ho solo un cavo di fibra Fa ammazzare qualcuno in mano Non si polle va Quante fanno una foto? E' vero E' vero che con R1 Scanzionavi l'aria Cazzo vuoi Allora No 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 Non è vero Ma dai Sei chilling Cioè Sì Non ti ho toccato Ma che sta a fare Ma che sta a fare Quando devi girare Quando devi girare Quando devi girare Allora Allora Che è questo? Queste qua Ecco Queste sono tipo le idee Le robe Ok Ok Esatto La stanza del server Se riuscisse ad accedere Potremmo ricavarne Informazioni utili Potrebbe essere un'idea E posso seguire Anche quella pista Vedi Infatti potrei seguirla La seguo Come dire Un occhio in giro Posso ancora seguirla dopo Non ti preoccupare In caso la seguiamo dopo Posso aprire? Arbagno Certo Salve signor Ciao E per andar cesso Mi serve una chiave magnetica Scusa Ah no Allora Fammi leggere qua Innanzitutto Gray vuole affrontare i soci Per farla Già un piano Che però comprende Infiltrarsi la stanza del server Di massima sicurezza All'interno del bus Di Al-Gazzaia Fratello Lo so A me non mi piace Sto programma E innanzitutto Ma come cazzo Si leva l'oggetto Che c'ho in mano Che mi sono scordato Come si leva? Grazie Grazie Posso salire qua? Dammi un occhio Oh vedi? Se può Se può parlare Qua si deve origliarsi Ok Allora Qui c'è un uomo sospetto Un appuntamento Con l'assistente personale Di sua altezza reale Hmm 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 C'è ancora il coso Il terminale Te lo fa via con tutti Oh un euro Mio No scusa 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 Oh ma che cazzo vuoi? Odio tutti Su sto gioco Ma a questa qua Gli taglio la gola A questa qua Gli taglio la gola Comandano occhio Non mi pare Non mi pare worth Oh manutenzione Qui c'è sta Bell'armadio Per metterci dentro Un cadavere Allora Allora Il posto è grande Dovrei andare dall'altra parte Magari dall'altra parte C'è qualcosa Per ora Abbiamo due piste Che si potrebbero Seguirsi Due piste Che si possono seguire Graficamente è Fighissimo Andrei a dare un occhio Dell'appi E ride E la mappa Questa Vendo sta E dove cazzo sta La mappa Questa è una bella domanda C'è questa Eh vedi Tutte le robe Portano al terminale Comunque Mi fa entrare qui dentro Bar scoperto Ok Queste di solito Si possono tipo avvelenare Se c'è il veleno Infatti però Non ce l'abbiamo Il veleno Porcazzo Qua c'è pieno Di sicurezza Poi ma che è sta roba Ma te fanno iniziare Con una delle missioni Che penso sia Cioè te credo Che fallisci Ma che è Quanta sicurezza c'è Sì Oh Harley Quinn Grazie Ma Ah ok figo Ti dirò A me sto travestimento Mi piace Però ti ho capito Vale Vamo stare subito Dal cazzo Da sto luogo Allora Quel travestimento Si mi piace Frate Serve sto travestimento Qua preciso Però ci servirebbe Un luogo Ben preciso Per farse cambiare Capito Allora 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 Foraccia Dove ho passato qua? Sì La voglia regolare Vestisse da guardia potrebbe essere Svortaci Questo è il bar sul balcone Capirai Frate ma quanto è grosso sto posto Ma come fai? C'è un manco la pistola Non abbiamo niente ragazzi Non abbiamo un cazzo Frate tocca seguire per forza una di queste cose Sta cercando una bottiglia di pisti specifica La bottiglia è stata ordinata per lui ma non è stata trovata Non posso seguire questa cosa no L'unica cosa che posso seguire Aspetta un attimo Uccello Ecco vedi Insicurezza La caduta dei giganti E uccello predatore Partecipa all'arrienne con Carl Conosciuto come la bottiglia di migliore assassino Il cristiano Questa qua mi piace Questa l'attivo Facciamo questa Facciamo Che sembra figa Mi sembra figa questa qua Ari andiamo da quello Travesti di Dazzana Al momento una parrucca non ce l'ho a casa Però Potrei sempre comprarla se serve Scusa 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 Che non avevo capito Fuck Ma io qua non ci posso andare Ma io qua Vabbè ma sì Che è questa Infiltrati nello staff Cazzo Come porco demonio faccio Come faccio ad entrare in quella porta Porco dio so pure in due Questi So pure in due Come faccio a infiltrarmi lì Eh devo killar la guardia e fregargli i vestiti E qua stanno in due zio Grazie Quelli stanno in due zio porco Salve Nooo 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 Grazie. Oh, e mettilo da qualche parte però! Oh, la pistola, cazzo! Vabbè, la ritroviamo. Cioè, vi spiegate come ha funzionato questo piano? Uno dei piani più brutti elaborati dalla mia mente ha funzionato? Allora, che c'è sta qua? Un po' di veleno, vabbè? Yoink! Elaborato! Mi sono scordato la password, signor! Ups! Mi dice danno a sotto! Ma qua c'è un problema. Il whisky. Ma qui il whisky non c'è? Ah, sì che c'è! Ma perché abbiamo seguito un'altra missione noi? 5, 6, 7, 9, è 5, 6, 7, 9. Mi è stato a far città. Willow, grazie a te! E bello coppo, grazie a te due! Tutti fida la mignotta, mi state baitando, mi state! Allora, aspetta, che c'è sta qua dentro? Ah, è un luogo! Senti! Come hai rotto il cazzo? Vai! Allora... Vai! C'è! C'è... Aspetta. Cosa è successo? Cioè, ho cambiato i vestiti e ha funzionato? Oppure sono scemo dall'inizio? La bottiglia ce l'avevo, ce l'avevo tutto. Sabì, grazie a te, coppo, grazie a te. Quillo, grazie a te, vinci, grazie all'anno. Penso alla seconda, avevo messo pure io. Che è questo? Aspira polvere. Qua che c'è sta? Che è un travestimento questo? Addetto alla sicurezza dell'evento. Era quello che c'avevo prima, zio porco, ma mi sono... Vabbè, tocca a scendere, va. Che è quello? Sto gioco fa troppo ridere. Cucina check. Beh, dove va andrà? Che è sto cortello? Dammi il cortello, perché ho preso il muffin? Kitchen. No, c'è qualcosa che devo fare in cucina? Qualcosa che devo fare in cucina? Una chiave magnetica che consente accesso all'area dello staff. Nice! Allora, no, io sto trollando, perché attualmente... ... è che allora se mi pio quel coso se incazza allora aspetto cazzo non c'ho il grimaldello il problema aspetta damo io un attimo magari la donna se le va o strozzamo signora si levi dai coglioni che lo devo sgozzare brava oh via olé frate quanto fanno rite le lattine su sto gioco porco zio gli arriva una crocca qui allora vabbè usciamo tirate una lattina in fronte frate è morta lei nessuno sospetta di niente tutti belli nel chilling allora vedete quelli col pallino bianco in capoccia questa è un'informazione che posso darvi quelli col cosetto bianco in testa sanno che potrei cioè non devo avvicinarmi perché potrebbero scoprire che sono un truffatore zitto guarda dove siamo tornati aspetta marcus nell'ufficio di sicurezza questo tatuaggio Rashford pure qua rompe li coglioni ok si preoccupa io non c'entro niente con Mumbai eccolo ciao come nodi dove ha messi let's go sul balcone ah raga gli fanno pian volo oh ma se leva questo e lei questo che cazzo vuole no raga moglie a dire una grocca in testa questa no Hai mai provato a costruire un animale? Sì. Bene. Quindi sai che non è così facile come si sembrava. È come per provare a scocciare una scocciata. Si non lo scocciate corretamente. Sei quasi qui. Devi capire. Non ho capito da dove sono. Ok, siamo quasi qui. Voi vedi i targeti? Qualcuno può scocciare un target. Con una scuola. No. È dove il talento sta. Il mio padre sempre diceva che se sei bene con una scuola, sei più meglio con una scuola. Voglio vedere le vostre skilli. Non so perché, ma ho sempre confiato a un uomo. Con una scuola. Ho sicuro che un psichiatra abbia una giornata con quella scuola. Quindi, dimmi cosa hai. Fai bene e lavorai per me. Fai bene. Voi fuori da qui e non voglio vedere la tua scuola di nuovo. È proprio la scuola di nuovo. Ma solo tempo dovrà vedere. Ma lo so, è un uomo. È un uomo. No! Olè No, no, dai, che ci sarà una cosa più figa avanti, secondo me Oh, no, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vabbè Nel chilling Va bene Devo buttare la roba, sì Allora Allora Uno Due A posto Andiamo Una bomba Scusa, 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 scusa No, no, ma non volevo, non volevo Dai, frate, ma non ho fatto niente, dai Ehm, sono Tristo, ma non lo trovare non ho sentito, scusa, ecco, dà me un attimo Dici di non ucciderlo a questo Effettivamente non c'è tutti i torti O sordimo e bah Potrei attirarlo ma non mi va Tanto viene da solo Ok La ristola non la vendiamo Ole Ah signor Mo me perquisisce e non me rompi i coglioni No no Lore grazie Dark grazie di due frate Oh Ma bella Oh mister Kazim I'm glad you changed your mind Arrogance can be a dangerous trade Yes indeed it can Mister Ingram has been expecting you We have a conference room set up for you Namo So se guardano Exception dell'attivo Dove? Ah qua Infatti è che è pieno dei guardi Azzì lì c'è un po' di veleno per topi C'è stata una favola Ti aspetti on view Azzì lì un po' di veleno C'è stata una favola proprio Oh Ciao Ciao C'è un coi Buongiorno a tutti. 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 No, non mi sono... Come on, come in, you copy? Yeah, I'm here now. No, nothing. It's quiet here, over. Roger that, moving to that location. Out. I think we need to... Truck or something, hit me. Yeah. She's waiting for me to go. What happened? Do we have a description of who we're looking for? I have no idea, I didn't see it. Ma questa proprio qua se doveva mettere un percazzo. Ma questa proprio qua davanti. Eliminar. Eliminar. Hey, what's the situation? Copy command. Still looking. No sign of the perca. No, questo mi vede. Sto rovinato. Ho rovinato. Ho rovinato. Ok. Man, affirmative. Bagging and tagging. Bravo. Frate, non posso uscire. Ho sti due tiltati da sti dulati. Cioè, questa è quella... Questa è la testimone. Wow. Hmm. I shouldn't get out of here, shouldn't I? Oh, God. Would you mind looking into what that was? They added more body bags. Hello, sir. Raga, il muffin best pick della missione. Frate, cioè, quel muffin era di pietra? Mr. Kazim, welcome back. So, you have the picture? Sì. Sì, here. Good. Our guest will be delighted. Please follow me. He's waiting. Zanuit, man, dev'untar... Mr. Kazim, please. Dev'untar muffin. Eh, qui stiamo andando a app, eh. Qui andiamo a app, ragazzi, eh. Madonna, che... Voglio starci pure io qua, oh. Muffin di pietra. Muffin di pietra. Mortacci. Raga, cioè, questa se meriterebbe di essere stordita, trascinata. In un luogo. Per prendergli vestiti. E poi magari facciamo finta di essere l'assistente. Potrebbe essere un'idea, secondo me, creativa per ammazzarlo. È vero, i vestiti femminili non li puoi mettere. Che cazzata. Questo sono io con Athena quando lo sgrido. Quando la sgrido. Come no. Dov'è? Parliamone. No, we have Ingram right where we want him. 47, you know what to do. Sì. Come no, ma no. Come no. Sì. 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 Il mio uomo qui resta per la scuola, credo che questo non sarà un problema. Inoltre, non hai una scuola nella situazione. Cazzo. Odù ammazza prima! La scuola ha detto, ma il mio uomo è molto piccolo, quindi mi metto al punto. La mia organizazione è stata incontrata da un cancer che non può solo essere riuscita da scuola. Se si riuscite la mia scuola. Sì, faccio. Buono. Questa piccola scuola spiega i celli tóxili e tonti. E io voglio lui stoppare brutale. La chemo non lo riuscirà. Solo il knife. Guarda bene oggi, signor. Arthur Edwards. Un piccolo uomo, se c'è qualcuno. Me e i miei associati... Beh, abbiamo costruito il piccolo uomo. Chiamo riuscita. Penso che tu e io abbiamo un interesse comunale. Penso di questo. Ma voglio che tu fai farlo. Questo non è un uomo che deve essere riuscita da sua miseria. C'è un uomo che deve essere riuscita. C'è un uomo che deve essere riuscita. C'è un uomo che deve essere perfetto per il lavoro. C'è un uomo che deve essere riuscita. Perchè? C'è eterno l'ho. C'è un uomo che deve essere riuscita. E' un uomo che deve essere riuscita da fare. Se famo male Porca troia che questi lo sanno lo stesso Sta posto il padrone sta fuori ciccio Merda quello lo sa Una cosa veloce, una cosa chill Fregamolo un po' sta cenere Furtite Anzi mi sto portando i souvenir a casa Gli ho fregato tutto Gli ho fregato Porca droga Cazzo è meglio così È meglio così Fregamolo Ma da dove porco Oddio scendo Ok da qua La spada non è quello che sembra Non vi preoccupate È un souvenir che mi ha regalato lui Ok Non mi sgava nessuno Incredibile questo videogioco Dove cazzo è stoia Qua perché è bloccata? Forse perché c'è vestiti sbagliati Non mi sgava nessuno Non mi sgava nessuno Ciao Marco Porco grazie del prime Ogg Vedi quante robe c'erano possibili da fare Non siamo andati neanche malissimo Non l'abbiamo fatto male in realtà 52 minuti di tempo missione Vabbè che stessimo divertiti a cazzarà Oh vabbè oh Nice Ciao Grazie a tutti.